In occasione del Summer Fancy Food a New York, la Regione Calabria ha schierato 24 aziende per rappresentare le eccellenze agroalimentari del territorio. In occasione dell'evento si è registrato il grande interesse del mercato americano proprio verso le produzioni calabresi. Una vetrina importante per fare promozione di quanto la nostra Regione produce nel settore che rappresenta una voce significativa dell'economia, grazie al lavoro di migliaia e migliaia di piccole e medie aziende che puntano sulla qualità. La Regione punta molto al settore ritenendo fondamentale il ruolo delle istituzioni nella valorizzazione dell'intera filiera agri-food. La spedizione a New York con il Fancy Food è stata anche in questo caso un buon successo per l'agroalimentare calabrese. 300 aziende che ICE ha organizzato per Fancy Food a New York, di queste 324 erano calabresi, quindi quasi il 10% a testimonianza di un settore agroalimentare che sta crescendo e che vuole soprattutto raccontarsi meglio e promuovere meglio la Calabria e il prodotto Calabria. E credo che tutto questo faccia bene ad un settore che lo scorso anno è cresciuto del 30% in termini di esportazioni, che è cresciuto in termini di fatturato e che deve proseguire su questi numeri, ce lo auguriamo, anche nel 2023.